Il trend nazionale dei contagi da Covid-19 comincia a dare piccoli e lievi segnali di speranza, tuttavia l'incidenza è ancora molto alta. In Molise non si ferma la scia di morti positivi e nelle ultime 48 ore nuovi decessi. Anche il Cardarelli di Contrada Tappino è in forte affanno e al momento si contano più di 70 ricoveri. La terapia intensiva pare sia sold out, avendo raggiunto il massimo dei pazienti ammissibili e ricoverabili. Il bollettino Covid, rinamato dall'ASREM, fa registrare numeri e dati che non sono per nulla rassicuranti, soprattutto ora che si attende dal Governo nazionale qualche allentamento delle misure per le festività natalizie. L'ASREM nel frattempo ha emanato un avviso urgente per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei presso le unità speciali di continuità assistenziale USCA. Il provvedimento, a firma del direttore generale Oreste Florenzano, fa seguito al decreto del commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini dello scorso 11 di novembre, con il quale aveva autorizzato l'attivazione di ulteriori due USCA nei comuni di Agnone e Riccia. In Molise sono già attive tre USCA, Boiano e Larino, in provincia di Campobasso e a Venafro, in quella di Isernia. Spostandoci ad Isernia, situazione più o meno rassicurante, perlomeno per il primo cittadino Giacomo D'Apollonio, che con sua nuova ordinanza comunica che dal 30 di novembre tutti gli alunni dei due istituti comprensivi, San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII, torneranno in aula con attività di didattica in presenza. Sulla questione, D'Apollonio ha sentito i due dirigenti scolastici, nonché i referenti dell'ufficio Sanità Pubblica dell'ASREM, ed è stato convenuto di tornare alle elezioni in presenza, già che al momento la situazione sanitaria appare sotto controllo. Permane tuttavia il monitoraggio rispetto ad eventuali sviluppi pandemici e se necessario verranno immediatamente prese le opportune decisioni di contrasto e controllo.